e qua abbiamo non soltanto la crème de la crème del patinaggio italiano ma anche internazionale già Carlotta Camarin e Veronica Lugiani nelle prime due posizioni e poi ovviamente tra le varie sono distretto, Francesca Luglisina ovviamente ma anche Eda Paluzzi e siamo Luisa Wuloway, Linda Rossi ovviamente l'atleta di casa attenzione, una scaduta in curva, subito dopo il traguardo e quando li accarti tutte vai Giulia, vai Giulia, vai Giulia c'è Giuseppe Alanzano, un top, una medaglia olimpica è proprio Giuseppe Alanzano, una medaglia olimpica giovanile questa caduta quindi ora vediamo di riprendere un po' con i signori ragazzi lì tra l'ossi davanti poi gioco abomina fermata gara fermata gara neutralizzata gara partita anzi è ripartita questa finale signora femminile 10.000 metri di eliminazione è una caduta atlete fermarsi vediamo se questa volta è quella buona 10.000 metri di eliminazione signora femminile un'altra caduta un'altra caduta atlete fermarsi si prima il primo giro sarà il 248 non cercano l'obrigida subito davanti linda rossi poi gioco abomina l'obrigida linda rossi ora la campana è a meno 47 la prima eliminazione l'obrigida linda rossi da rossi borbida luciani e parola prima il 4 luisa 1 away all'esterno 506 Viene ammonito il numero 244 A questo punto la gara è partita, ce l'abbiamo fatta e cominciamo 172 eliminata Ciao Borsinelli ma intanto il gruppo è allungato Almeno nella prima parte dicevamo qui abbiamo ammonito il numero 544 Tanti titoli mondiali, tante maglie azzurre nella lista delle scritte E' eliminato il numero 544 544 Linda Rossi, Francesca Lorgugida si, marcano, strettissime Luisa 1 vai davanti 544 per Massi 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 Giu la mani Giu la mani 98 eliminata Rossi Bormida Lollugugida Luciani Camarina Queste le prime 6 Tutte con lunga esperienza internazionale ovviamente su tutte Francesca Lollugugida e Linda Rossi Impegnate anche con le lame oltre che con le rotelle Vittorio in Coppa del Mondo, piattamente alle Olimpiadi ci siamo veramente al massimo livello dello sport internazionale 415 Cora davanti Oene Palaschetti Cora vie esterne Il gruppo è sempre allungato perché l'andatura è veloce, veloce, veloce Ulauei, ancora davanti poi Lorenzato, poi Linda Rossi Sono già formi da sempre 725 per Massi Al passaggio mancheranno 36 giri Brava Giulia Corsini all'esterno Seguila, seguila Vai su Sara Sempre Luisa Urlauei davanti, ora succede poco e niente nelle prime posizioni 30 Atleta numero 30 3-0 Nero 30 A fermarsi Giorda Paoli Sì Grazie Giorda Io Ero Io Ero Vediamo l'occhio sulla testa della gruppo, certamente si evitano le eliminazioni in La scuola ovviamente ma vengono annunciate dalla gioia come dovrebbe essere 93 eliminata Irene Palaschetti 93 numero 93 A fermarsi Grazie 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 Anche a facciata nelle prime posizioni Siamo a meno 32 Campana e al prossimo giro eliminazione Basta Alessandra Susmeli per la via interna e vediamo in testa del gruppo si è portata Linda Rossi Giorgia Bormida Francesca Lollobriti 464 Eliminata Valeria Bustelli Cominciano ad essere eliminate anche a 3-0 Non che quelle che non fossero di valore ma diciamo Viene ammonita la numero 50 Linda Rossi davanti poi Giorgia Bormida Te ne prendo l'autorosità Pio Amica Lucziani Piano Amica Camoni C'è il Presidente di Natale Queste le prime 6 Ruppo Agli ica Spiroso 7-5-8 eliminata La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava, la potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La campana di meno 24 è qui. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La potenza tagliata ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La nostra patente ha dovuto lasciare anche tempo la gava. La patente ha dovuto lasciare anche tempo la gava. 751 brava Giulio brava Giulio sempre tra le migliori al primo anno di categoria non molla Laura Lorenzano continua la sua azione quando è suonata la campana il prossimo sarà l'eliminazione di meno 7 e qui attenzione Carlotta Camarena comunque ha dato tutto anche lei grande prova di Federica Tintale che rimane agganciata alle migliori d'Italia e attenzione campana di meno 6 Luisa Hulaway poi Linda Rossi Giotto Bonita che si è rimasta molto coperta nella seconda spada della gara sempre Luisa davanti 244 per Massi Federica Di Natale lo merita un applauso l'atleta del gruppo centro polisportivo Giovanile Aquilano gran prova per lei ma ora siamo agli ultimi 4 giri brava a tenere alto il ritmo Luisa Hulaway dietro di lei Francesco Lologo poi Linda Rossi brava a tenere alto il ritmo tre eliminazioni 247 eliminata brava a l'avventato brava comunque gran prova ha tirato un sacco di giri brava a Veronica Luciani all'interno eliminazione anche a questo passaggio 21 brava comunque numero 21 1 2 brava a fare 20 1 1 Grazie!